Una vittoria importantissima e difficilissima contro una squadra che sta esprimendo un ottimo gioco, contro una squadra molto forte, una squadra che è cresciuta esponenzialmente. Non era assolutamente facile vincere perché noi avevamo l'obbligo di fare punti e Lago Negro di continuare il suo percorso di una stagione importante. Abbiamo giocato molto bene il primo set, Lago Negro è stata brava a girare nel secondo set l'andamento della partita, a metterci in grosse difficoltà. Noi siamo calati soprattutto nelle sicurezze, bravi ragazzi nel terzo e quarto a riprendere quella determinazione, quella cattiveria necessaria per affrontare una squadra così importante come Lago Negro. Tre punti importanti sia per arrivare prima possibile alla salvezza sia per vedere i piani un po' più alti della classifica. Una vittoria importante perché il campionato è molto impegnativo, molto difficile, le squadre dietro non si arrendono assolutamente e per cui sarà una battaglia fino all'ultima giornata.